vai 1 2 3 aprite aprite cos'è 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 cosa un gira gira vediamo 1 2 3 e boom boom vuole giocare pure lui vedi willy guarda così guarda guarda willy willy guarda ecco scusa sei appena voluto uscire e bentornati a tutti in questo nuovo vlogmas sono le tre e mezza il tempo è brutto quindi c'è un'aria abbastanza una luce cupa tra l'altro prevista neve prima ha fatto un po' di acqua neve adesso piovigina ma non lo so ma sarà tutta una settimana un po' così e io sono qua con e neanche sto guardando i cartoni ma è più di là che di qua Mirko è appena andato a dormire infatti avevo messo le sedie sul tavolo perché volevo passare la bissel per lavare anche terra siccome però la bissel fa un po' rumore abbastanza rumorosa giustamente sta dormendo e abito almeno così si fa un'oretta ho preso però la busta con tutte le tazze di natale che siccome devo avviare la lavastoveglia almeno metto anche quelle così almeno le posso usare in questo mese e in più ho anche le scarpe perché stanotte arriva San che arriva Enea stanotte chi arriva? arriva Nicolaus e quindi dobbiamo mettere? le scarpe fuori dobbiamo mettere le scarpe fuori chi segue i miei blogmas passati lo sa comunque adesso ve le faccio vedere in più in più ho stampato ecco mi veniva due cose ieri da google per mettere lì il quadro così il quadretto così lo facciamo lo faccio vedere lo facciamo insieme e niente questo in più vediamo se più tardi riusciamo a fare questo presepe che non sarà molto impegnativo da fare l'unica cosa che credo che devo comprare una batteria di lucina con le batterie non con la presa di corrente siccome non ne ho vediamo ma tanto è una cosa che si può fare anche dopo comunque adesso prendo qui le tazze così vi faccio anche vedere le scarpe e iniziamo questo pomeriggio insieme questo devi dire lunedì vai all'asilo chi c'è lunedì all'asilo? piove chi c'è lunedì all'asilo? Nicolaus Nicolaus fate colazione con Nicolaus lunedì bellissimo sei contento? lunedì viene si si ci scelletico non lo faccio chiudiamo? va bene dai che prendo le tazze e facciamo vedere le scarpe ciao appoggio il video ciao va bene ciao allora le scarpe per Nicolaus sono queste questa grande grande è una di mamma e papà messe insieme ma quest'anno ma voi ci sono di papà no dicevo quest'anno mamma e papà arriva questo sì questa invece è di Veneo questa è di Mirko e questa è piccolina sì e questa piccolina è di Willy quindi poi stasera le sistemiamo vediamo Nicolaus porta porta cioccolata mandarini porta le noci è vero qualche giochino forse 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 non si sa qui invece ci sono le tazze così le mettiamo tutte nella stoviglia ovviamente questa è la mia preferita cos'è? si è tutta rotta c'è rotta tutta tutta rotta si è rotta ma dicono cioè non si poteva rompere questa no o anche questa volendo volendo anche questa no vabbè adios vabbè niente la buttiamo che bella sì va bene quindi dai mettiamo queste cose devo togliere un po' di cosina in giro tra cui queste ma che cos'è questa tazza questa bella questa tazza bella? sì sì ti piace questa tazza? pulita? non è pulita eh sì è sporca allora la laviamo non è pulita è pulita è pulita così poi ci prendiamo la tisana più tardi sì sì tu la vuoi la tisana? io bevo bella la tisana ci beviamo la tisana come due vecchietti? no no mettiamo mettiamo così mettiamo toccolata qua e ci mettiamo a cucca e ne mettiamo il latte e poi ci mettiamo a cucca e poi basta ci abbiamo messo tutto cioccolata latte tutto abbiamo messo vabbè dai che le devo lavate dai alla fine quella che ha dormito sul divano sono stata io Enea assolutamente no adesso mi sono anche presa di freddo vabbè che ero con le maniche corte quindi mi sono presa la mia vista giuccia e sono andata anche a chiamare Mirko ho portato qua ma mi ha detto nine e vi faccio vedere quindi le cose che ho le due cosine che ho stampato ieri dove l'ho messa? l'ho messa qua le faccio vedere ok prese quelli che ho stampato ieri sono uno è questo e l'altro è la classica mi piace tanto questa di Natale la macchinina con con l'albero quindi questo lo andrò a mettere qua mentre la macchina di Natale attenzione lo mettiamo là ovviamente giriamo Mirko sveglia Mirko Mirko sveglia 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 se arrivo io c'è la notte sono arrivato sono arrivato sono arrivato il tullino come? sono arrivato il tullino con il pijama è arrivato è arrivato è arrivato il pijama c'è pure Mirko col pijama gli va un po' piccolo il pigiamino di Natale che c'è la DNA va ben uguale gli va un po' non a pantaloncino ma un po' come se c'è caso un po' allagata Mirko ti sei allagata la cameretta? ti sei allagata la cameretta? si si bene noi adesso andiamo a mettere le scarpine per San Nicolaus e l'anno scorso e anche l'anno prima nei vecchi vlogmas noi mettevamo fuori proprio la porta di casa però lì nella manzarda eravamo soli al piano quindi ecco qui diciamo si le hanno già viste quindi abbiamo deciso di cambiare posto tanto Nicolaus sa dove deve andare e quindi le mettiamo sul balcone Nicolaus vola quindi arriva dal balcone non vola vola e quindi le mettiamo sul balcone ci sono le lucine c'è una nebbia stasera lasciamo stare neve non se n'è vista quindi speriamo che Nicolaus vede lo stesso speriamo che vada a schermare con la nebbia non potrei che prende prende il cordigione quindi allora ci prepariamo? si andiamo a mettere? si andiamo Mirko allora Willy c'è pure la tua Willy si è sentito il rumore di ciotoline e di crocchette quindi lui è sempre lì si fa i suoi viaggi avanti e indietro avanti e indietro dai Willy sono pronta sono pronta sono pronta evviva Nicolaus portami qualcosa Nicolaus allora apriamo la finestra aspettate che col fatto che ho questo che è il blocco per i bimbi come una mano andiamo bloccati pure noi andiamo ecco si no no proprio fuori fuori che fa freddo dentro dentro sul tappeto sul tappeto dai qua mettiamole qua sul tappeto di Babbo Natale ok ok una due vette dell'altra riempilo riempilo vai mettila qua ecco ok adesso dice Nicolaus ti aspettiamo Nicolaus ti aspettiamo sono qui sono qui ciao ti raccomando non ti dimentica il nostro balcone terzo piano terzo piano terzo piano dritte stock dritte stock ti lasciamo la luce accesa ciao ciao i luci accesi con pallina con arenna con arenna con arenna ok e chiudiamo il balcone che fa freddo fa freddo ciao 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 Nicolaus ecco fatto non si può sbagliare gli abbiamo dato tutte le indicazioni se si sbaglia Nicolaus vuol dire che è proprio invecchiato è invecchiato quindi noi chiudiamo qui vi rimandiamo poi al vlogmas di domani per sapere Nicolaus che cosa decide di fare magari non passa può essere non si sa e poi vola Nicolaus vola cammina poi viene pure all'asilo tante cose eh si quindi adesso salutiamo tutti diamo la buonanotte e ci vediamo dove siamo stenzione a non cadere alziamoci e ci vediamo al prossimo video vlogmas 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 video video al prossimo video al prossimo video ciao ciao